Musica Benvenuti amici, benvenuti in questa nuova sezione dedicata agli artisti emergenti. Arte Investimenti infatti cosa ha fatto da qualche mese a questa parte? Ha deciso di dedicare una sezione all'interno del sito internet agli artisti emergenti. Quindi artisti con un grande talento ma che nel mercato dell'arte ancora non sono particolarmente conosciuti. Cosa si può fare? Ci si può iscrivere e pubblicare all'interno del nostro sito un numero massimo di otto immagini. Otto immagini ovviamente di opere che i nostri clienti e non solo potranno avere l'opportunità di visionare. Oltre alla pubblicazione delle opere si può creare una video intervista che andrà pubblicata all'interno del sito e all'interno dei nostri spazi televisivi. Oggi con noi abbiamo una delle tante persone iscritte nella sezione artisti emergenti ed è Angelica. Ciao Angelica, benvenuta e grazie per essere qui. Grazie a voi. Allora, noi siamo coetane, non riveliamo però l'anno, non riveliamo ancora l'età, però presentati e raccontaci un po' chi sei e quello che fai. Va bene. Sono Angelica e sono nata a Firenze dove sono anche cresciuta e ho cominciato subito dopo gli studi a lavorare nel restauro. Dico questo perché ho cominciato subito a avere una certa manualità e avere per le mani degli strumenti e dei materiali diversi da quelli consueti. Dal classico colore, la classica tela, perché è giusto che sia così e non arrivare impreparati. e nelle informazioni che mi hai fornito infatti leggo che il tuo materiale principale è la carta, quindi utilizzi principalmente carta, cartoncini e oltre a questo altri materiali che ti pregherei di raccontare. Sì, alla base del mio lavoro essenzialmente c'è la carta che ho cominciato a collezionare fin da piccola, per cui l'archivio adesso è molto grande e le carte sono molto differenziate. In realtà comunque al di là della carta, soprattutto se si tratta di fare sculture, di carta pesta, mi piace utilizzare anche altri materiali che possono essere dai rotoli di carta, ai palettine di legno, a metallo, fil di ferro e materiali un po' meno morbidi. Cerchiamo di riciclare il riciclabile per non creare ulteriori sprechi. Ed è giusto anche adottare una politica simile, anche perché poi mi sembra che i risultati siano più che ottimi, anzi complimenti. E tra tutte le informazioni che mi hai inviato, mi hai lasciato una lista che io ho qui sotto, per non dimenticare nulla, di concetti base che stanno appunto alla base del tuo lavoro. Quindi i supporti, le varie tecniche, i vari materiali utilizzati, il riciclo. E diciamo che grande curiosità ha provocato in me questa frase, ordine è una certa disciplina per curare un progetto. Quindi, domanda, tu crei un progetto e quindi sai già quale sarà il prodotto finale o lasci le idee, insomma, alla naturalità? Insomma, tu pensi e poi lasci andare la mano. Come nascono? Ma allora, i miei progetti sono differenziati, non sono tutti uguali, quindi alcuni partono da un progetto più o meno predefinito in maniera totale e altri invece si sviluppano in maniera più naturale. Direi che comunque il discorso dell'ordine riguarda anche il fatto che, cioè anche il mio studio, a fine giornata io ho bisogno di risistemare le cose, riordinare le carte, sapere dove sono alcuni oggetti, dove stanno altri. E non credo nel caos che sta intorno alla creazione. Sì, penso a un processo che sia ordinato, che sia portato dall'inizio alla fine in una maniera piuttosto ordinata. Certo, per poi arrivare ovviamente a un'idea concreta e realizzarla nel meglio possibile. Ok, e per spiegare forse meglio agli amici a casa questa tua idea di progetto, bozzetto, insomma, del principio e poi dopo come si evolve il tuo lavoro, sarebbe carino che tu appunto facessi vedere quello che hai fatto vedere a me prima. Quindi il famoso bozzetto che si è trasformato in opera d'arte reale, che in realtà non sembra, nel senso che il bozzetto in sé sembra proprio una tua opera d'arte vera e propria. Quindi possiamo far vedere agli amici a casa questo... Sì, il bozzetto è questo, che in realtà è un collage e con gli interventi a tempera. Spesso succede che i bozzetti vengano meglio dell'ore finale. No, no, questo assolutamente, nel senso sono due opere quasi a sé, ecco, era per quello. Sì, infatti è così. Perché poi facciamo vedere appunto il risultato finale, è molto simile al bozzetto, se non che, mi dicevi, cambiano i materiali utilizzati. Sì, cambia chiaramente la scala, perché poi dopo riportare le proporzioni ci si riesce sì o no, e poi chiaramente anche lì un po' di cambiamento è contabilizzato. Certo, certo, si evolve l'idea magari nel riportare, certo. Sempre qui in studio ci hai portato un esempio di quello che è la tua idea di reciclo di materiali per creare le opere d'arte. Appunto abbiamo questa prima opera qui esposta, dove tu hai utilizzato cartoncini, giusto? Sì, esatto. Quindi come è nata questa idea? Ma è nata da, per dire, una fine giornata, mi sono messa lì, avevo tutti questi cartoncini vegetali avanzati, che non riesco a buttare proprio, ho delle scatolone in cui tengo tutti gli avanzi e ho messo insieme tutti i pezzettini, fino a formare questo supporto, che poi chiaramente viene trattato, perché gli ho dato una mano di acrilico, dopo una mano ad olio, e poi dopo non si riconosce neanche più, chiaramente. Però, sì, è il tipico lavoro che nasce da un riassemblamento di materiali inutilizzabili, altrimenti. Sì, ho capito, ho capito. E vorrei dedicare gli ultimi minuti del nostro tempo poi a un'altra delle opere qui presenti. Un'opera che ho trovato veramente particolare, a parte per la sua bellezza finale, ma per la sua storia. Angelica mi diceva che quest'opera è nata da un quadrato completamente bianco. Ora ve la faremo vedere e vedrete che è un'opera completamente colorata. E quindi la domanda che è nata è stata, ma come hai fatto da un quadrato bianco ad arrivare, un quadrato tra l'altro molto più piccolo rispetto a questa dimensione, a creare poi un prodotto finale del genere? Questo è il tipico lavoro in cui in realtà il progetto non c'è. Ecco, appunto. Ho cominciato tagliuzzando questo quadrato, riproducendo un motivo ornamentale, che è uno dei filoni di ricerca che mi interessano. E ho ritagliato questa geometria all'interno di questo quadrato. Dopodiché con tutti questi avanzi ho pensato di rincollarli. E quindi questo qui è un lavoro che risente di successivi rincollamenti, riadattamenti dei supporti, perché spesso lavoro in questo modo. Cioè mi piace che il lavoro cambi in corso d'opera, e allora magari da un quadratino viene fuori una cosa che anche io non avevo mai. Sì, è una vera e propria evoluzione dell'idea, del pensiero. E possiamo fare vedere il retro? Ecco qua, infatti tutto... Qua si vede i rincollamenti di queste due parti gialle secondarie, dopodiché questa qui è una... Sono dei cartoncini che ho incollato anche per garantire la stabilità, insomma. Una maggiore resistenza, insomma. E però tutto nasceva da questo quadrato iniziale, che è questo arancione. Quindi il famoso quadrato bianco era questo centrale. Sì, esatto. Ok, perfetto, grazie mille. Per il momento abbiamo terminato. Io ringrazio Angelica Gerosa di essere stata qui con noi. Grazie a voi. Grazie per esserti presentata. E vi invito ovviamente a visitare di nuovo il nostro sito internet. E vi aspetto alla prossima puntata. Grazie a tutti.